Allo! Dra, granada, potrò Stai da un guild, Kevin! Carca troia! Dra, granada, potrò Go, go, go! We are in boi Follow my mission, the weapon! Da menonda! Vai! Dimi quando iniziano ad arrivare le persone Ah, possono mettere pronto addirittura adesso? Si, è quello di prima Si, è quello di prima Attenzione Si, ma non cambia niente Nessuno? No, è impossibile Ci sarà qualcuno che vede sta cazzo di roba? Aspetta Nessuno Voglio pubblicizzare la mia pagina anche per piacere Allora, comunque intanto E' quello di prima E' quello di prima Non sembra professionale la cosa Allora, intanto Finalmente hai detto arriva la gente Comunque io uso Capitao e Smoke Sì, speriamo di poter essere bene Allora, allora aspetta un attimo Aspetta Aspetta Qua già ci hanno rinalciato forte Vedi? Si ma ci vuole tanto se Glint L'altro Glint Mette pronto? Ah, io parto lo stesso Mi sono rotto già il cazzo Ok No, Pamela, no Non è possibile Glint si sapeva Glint si sapeva? No Lo sapevano anche i sassi No Sta mappa no A me, raga A me è da ieri che piace sta mappa Quindi Ah, quindi stai già registrando Dracula Che si so Tutto pronto Tutto pronto si comincia Ok Dai Dai Vai vai Facciamo i seri ragazzi dai Non facciamo brutte figure con i Quando stiamo su 4-0 possiamo iniziare a cazzatura Io dico una cosa Io non me ne fotte più un cazzo di girare da nessuna parte Non mi vedrete mai più da nessuna parte Inquadra un attimo le scarpe Non mi vedrete mai più Sono qui in frulli per trovare il mio schiavo Max Felicità Ma ricordo che mi hanno chiuso la pagina Facebook Mettete subito il vostro like alla pagina Facebook Andrea di Prasenza 100 Fate un favore al mio schiavo Fatelo subito Che mi hanno chiuso la pagina Dopo 660.000 like C'è 400 like Ne ha di più la carrozzeria del paese Lo so Comunque ascolta adesso Dategli Dategli Mandatemi un like Poverazzo Vabbè qua mi hanno Qua già mi hanno minacciato Mi raccomando Glint devi uccidere l'altro Glint Esatto Dai oh Se si mette a caricare quello lì ci fa un favore Guarda che arriva gente Ma che cazzo Ma se arriva quello del formaggio Arriva per questo Ma andiamo qua ci vogliono venare E non è uno scherzo Siamo in 3 qui Però se sono in 10 non lo so Io sono anche armato Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo E' una madonna Nella gioia Ok allora Ok allora Ok allora La faccio per voi No ti prego il secondo DLC Di Star Rainbow di merda Nooo Speriamo che fanno davvero la yard 2 Perché sarebbe spettacolare Ah la fanno sicuro Si Hanno già chiesto cosa ti piacerebbe vedere Si ha capito Eh Sapete che è figato Se metto un'altra 4 mappe l'anno prossimo Madonna Dodgers Ho 76 piglia ma No mente Cazzo sta succedendo Vabbè di mente se se ne so 70 Non è che Mente sfudoratamente Don mi fa salire una cazzo Nel can... Occhio gli spawn Ok Ovviamente se riesce a mettergli il terra Ma è stato strategico Che cazzo lo mi ha No 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 Sto figlio di puttana Di niente Lo so che rischi la vita Il toucher buttasse lì No 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 Che cazzo che spara Vai Tu renditi conto che cazzo di giro devo fare per piazzare una bridge Lo so Kevin tu hai chiesto No 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 Qua Kevin qua 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 C'è direttamente l'ostaggio almeno E le piazzo 2 no? Ok va bene C'è il mute Aspetta un attimo Però prima qua Vai 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 Piazza Spacca tutto Non funziona Non funziona Wow Buttate il toucher Il toucher Grazie No va bene Non funziona Non è difficile Ma si che funziona Catcher B Ok Non c'è nessuna cazzo Se entrate prendete lo status Ci sono sposti qua dietro No 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 Vai Ok l'ho distrutto Puoi andare Non può andare Sì hai rispetto un pezzo di niente Sì può Prova metterlo un po' più in mezzo Ma va bene Raga venitemi a prendere Raga venitemi a prendere Porca broia Sì è che sei saltato Perché Frank tu ti fai cazzo di tuoi da un'altra parte Me lo dici? Vengo a prenderti Vengo a prenderti Vengo a prenderti Perché stavo rompendo le cose con Ash Non c'è una granata Povero Frank Lo scrivere Lo scrivere è morto sto qua Incredibile Non muoiono Incredibile Oh qualcuno vado a prenderlo a stagio Dai non c'è un cazzo di nessuno nella stanza eh Non c'è un cazzo di nessuno nella stanza eh Io non c'entro senza Androne Oh le granate cazzo Perché non funzionano Guardate che ci sono tre progetti C'è gli hacker Merda quello non l'avevo visto No ho ucciso Glint Frank secondo me la puoi prendere a stagio Secondo me Però devi stare dentro a sinistra Appena entra a sinistra Era anche dietro dietro di noi Dietro di noi Come dietro di noi Tengo 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 Sì sì Sono secco Oh c'è uno qua sicuro Raga ok mi piglia stasso salto Sperate che hai buttato la balestra va Vai vai hai preso con la balestra Vai via 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 Cazzo è successo raga Impedici di animazione Impedici di animazione Impedici di animazione Vai 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 Va bene va bene Glint sta più in basso Più in basso No non aprire Kevin Non aprire Non aprire Non aprire Non aprire Ma non ci credo Come cazzo ha fatto non si sa Manco l'ho visto È morto Buona OLE Grande ha acceso lo stagio Bella sta mimetica Ah è che gli aveva sparato due colpi all'inizio Va bene Diego usa lo scaf eh Ah no è vero stava sparando a me Molto utile lo scaf su rainbow devo dire Assurdo Andiamo ragazzi Che non mi lascia Dove volete andare? Andiamo all'appartamento della zia Appartamento della zia Sì sì va bene va bene La zia Guardate che scandalo Abbiamo tutti e cinque le nitros Anzi una tranne una Che cazzo che è? Vabbè sarà Jaeger Credo che abbiamo la pompa Ovvio Io credo che faccio spanchilla di quelle pesanti quindi Anche io Blocca tutto dai No tu no perché stai No 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 Sentite queste vanno piuce ho lasciato per ora questo quadra con quale acqua 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 ok se questo è ok però blocco faccio il tuo blocco a quei newt tranquilli dove 1 tutti i tuoi sicuramente c'è una botola qui cazzo a quella finestra è aperta ragazzi controllo le vale scale c'è qualcuno che controlla le scale oh raga le scale la finestra la finestra la finestra prendi l'SMG hai l'acog no? si si è chiaro hai capito Kevin però dove sta preso i dodgers preso cazzo questo vogliamo bruciare vivo lo stagio però tranquilli tranquilli penso se lo beccavano su lo stagio ci ne vedevo li devo forte occhio Frank 5 per 2 facciamo cazzate ci hanno visto con un drone ragazzi non è lì ragazzi è sceso uno eh Frank io guardo le telecamere sono in merda grazie a Frank no Frank era mio ce n'è un altro sento correre sempre lì da Frank eh va bene da Frank? esce esce tu hai trovato ma stica 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 no 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 da dove da dove sopra 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 dalla botola il muore ok che fanno la lasciamore fai attenzione ma non ci credo zio kan lo ha atterrato veramente dai buco dalla parete chi sta a terra lo ha atterrato raga uccidetelo dai sta salendo le scale come un verme dai cazzo uno bravo Kevin bravissimo Kevin Kevin Strazzi Kevin Strazzi con la mimetica piragna ciao no però è assurdo il fissile a pompa che atterra e non ammazza da un metro dai che palle ah quanto c'è tutto soddisfazione quello stava strisciando per il compagno ma la cosa bella che io l'ho già ferito tantissimo troppo di dodger ma che ne so guarda dove lo vuoi esponare è ancora tetti ragazzi la nitro la nitro la nitro eh la nitro ho capito che risolve sempre la situazione però che palle eh ok mettici la cosa ci sono io adesso vai mettici la cosa ci sono io aspetta un attimo però aspetta vai vai ora vai ma che cazzo fa perchè ha beccato l'esterno cacò Kevin qua qua Kevin qua eh devo scendere secondo me potete entrare a prendere l'ostaggio secondo me copro io da qua entrate in due però si si il cazzo è il cazzo è libero dove c'è la piantagione dici? non è libero ah dove sono? segnalateli no c'è Jäger c'è Jäger c'è Jäger lì spadagli ok è libero io entro vai entra dove cazzo si entra oh Frank scusami scusami doge no Frank oddio Frank 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 mi stai uccidendo scusami scusa madonna veramente raga che cazzo eh ma hai deciso di fare di quanti dall'altra parte dove cazzo erano? dove ero io? non ho visto neanche uno io a questo bio ma secondo me qui si quasi ci stanno incazzando dai figli cioè diamo il compito a Dodger di cercare una cv di merda trovai mongoli trovavo ma non sei contento? no no che sti ho deliberatamente lasciato aperto questo muro eh io non ho fatto niente allora qua raga tranquillo ti faccio il buco che cazzo ho sparato così no no io ho fatto il buco del Dodger ah 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 Frank tranquillo ho fatto fuori termine ho ucciso Diego uscendo raga col fucile a pop no prima regola le cazzo ho spaccato raga di là di là di là di questa stanza alla botola stia anche io lo sento no Dodger vabbè ho visto qui ma sono atti svegli ma dai non so che ha fatto fuori oh io ho sparato ma penso a culo che sta sparando ancora c'è ancora c'è ancora ma la parola che non va a cagare va non è morto non ci credo dragon ritirati dragon ritirati ok dici perché dici che scende le schiade no Dodgers guardate dalle camere soprattutto quella interna oh eh glint occhi che arriva da lì arrivano da lì anzi bravo 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 entro in quella stanza fai i genetri fai i genetri fai i genetri puttana vai 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 se la devono cavare da soli questi cazzo ma la smoke fa qualcosa figa oh sta scendendo la missa è passato uno dalle scale si 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 è d'asceso è d'asceso è sulle scale a fanculo wow cazzo dal buco volevi non è morto faccio sognare un minuto Kevin Kevin chiudilo sto Kevin chiudilo sto muro chiudilo chiudilo no 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 ho lasciato aperto per vedere con il caso in cui entrano è che non so dove è l'ultimo perché qua hanno fatto i due ah no è Clint è Clint è Clint 30 secondi raga non sanno che fare è rimasto solo esce flash di prima è rimasto vai poi ancora fuori fanno una dash incredibile da pochissimo amore bravo ucciso bravo dove era dire che era controllo la situazione questo esce minchia si è normale doggio che anzi vengo franco perché ci facendo schifo direi che li vedo pronti per questa mappa loro no ma non sto facendo schifo dodgers è a me la mappa che non piace questa qua meno male che non ti piace perché stava andando bene mica che mi sta azzì zero morti oh madonna che mi sta azzì sdraiato e agli aspetti esatto io sto lì tranquillo su d'alto lorenzo 25 02 ti ha invitato in un gruppo ma perché non c'è l'opzione che sono i collaboratori possono far vedere la notifica cazzo tutti tutti possono rompermi coglioni sulle notifiche pazzesco vabbè viva l'xbox poi andiamo beh sappiamo che hanno attenzione 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 io ci vado io vai di nuovo con l'inizio che viene con l'inizio metti subito le cariche lì secondo me potreste prendere lo stage ora con attenzione mi ha shottato di nuovo uguale a prima uguale a prima fatto cazzo c'è uno sdraiato Kevin c'è uno sdraiato su bella glint non c'è nessuno al momento io entro esatto nessuno vai Kevin facci vedere ok c'è lo Jaeger però sto caputando io vado giù vado giù no sei pazzo Kevin è di proposito è di proposito di proposito di proposito beh ho capito sarò durissimo adesso non fregatene di me no no devi tornare a casa soldato vai ma non è c'è ma non è Kevin che si lancia da 6 metri d'altezza 5 a 0 5 a 0 vittoria perfetta ah perché noi di cioè noi normalmente quando facciamo la prima volta la mappa nuova vinciamo sempre 5 a 0 però adesso non è più nuova è quello il fatto è vero si ma non è più nuova cioè vabbè appunto ma è nuova per noi è nuova per noi è vero MOSEGA convocazione colloquio con professore di filosofia si apra il mondo cazzo guarda che topo su instagram è perfetto sono i primi rapporti sessualoidi e penetrativi sta conoscendo si sta sta esplorando capisco capisco che topo gli dia un'altra capisco il livello gli dia un'altra possibilità che cazzo è il di preismo io smanto fuori lei signor di pre e suo figlio questo è il di preismo questo è il di preismo orego qua non sarà facile come adesso se no dovremmo mettere un operatore che sa lo scudo ma con un mp5 al posto della pistola ma infatti ma io proprio veramente senza possibilità di mirare però cioè esiste comunque nella realtà esatto senza possibilità di mirare o meglio puoi mirare ma poco non col mirino metallico cioè tipo ti avvicina un po' la nuova basta infatti ti si riduce il si ma abbiamo capito non è essere perdato io ci sto mi sembra un'ottima idea minchia che mi sta azzia dove sta guardando oh ce n'è uno Kevin preso spadagli eh grazie oh mio dio no l'ho vista all'ultimo che si fai è lì nell'angolo è l'ultimo lì adesso Kevin è lì eh si non ci credo qua avessi fai drop shot fa oh madonna avessi fai scapcialo si proprio allora quinto vuole rientrare pure porca troia vabbè bella che è un po' vabbè l'ho visto la comodità del mondo raga ha preso ha preso il pompo cazzo fracca tuttano il barato cazzo aspetta te lo dogo io Kevin le cazzo Kevin no togli tu Kevin devi metterlo ok bravo Kevin stasi C'è volete metterla rapa e imbaricate la botola Oh ma stai tranquillo Chiudo di quella merda Un refluxitorio Ehi tu Nel compagno di direi tu devi ammazzare così Sì, fucile pompa è effettivamente da lontano il suo gioco Cioè lontano, cazzo, 3 minuti era Dove stava la cunna Nel sopra dove sul tetto per entrare nelle due stanze Preso, voleva Sta lì Frank, sta lì Lo so, lo so Nella stanza del server Mi falli L'ho atterrato Diego Non ci credo questo gioco è così bastardo Dove, dove? Nei bagni Però c'è Diego fuori atterrato I bagni, glim Fuori atterrato, lì esatto, dove hai mirato tu glint Lì fuori ce n'è uno atterrato Alzati Kevin, alzati Eh, atterrati, sì, sono dietro al tavolo, dietro al tavolo Eccolo, eccolo Direi che non è a terra però Ecco Ma, ma va fanculo Che schifo Bello Grazie Che schifo, figa Grazie, Clint Sono troppo forte Sì Beh, se tutti sono forti Siamo la roba lì, eh Oh, malebolite, ste merd Il giorno metteranno la skin di Babbo Natale Io disistalo il gioco Guarda, metteranno e lo sai E lo sai anche tu Attenzione, ci potrebbero essere trappole di frost Non entrate Guarda che non muoiono Cazzo, sparo a pare Se non muoiono mai Ma va fanculo, va Guarda che Nabbo, chiusa a blackboard Non è morto Aspetta, aspetta Non la buttare Non la buttare No, no Complimenti Ti sei suicidato Ma che c'è con il perno Valore nero Era uscito l'Altrosale Frank, hai visto Frank, hai visto Ma tranquillo Sì, me l'hai lanciato male Ho visto che ero uscito Sì, sì, no Non avevi poca vita Ma cosa vuol dire È uscito l'Altrosale Dobbiamo cercare di entrare Perché non ho lasciato tutto scoperto Oh, stai diritto, coglione Ecco Beh, abbiamo perso Ho fatto fuori Ash Tranquillo, tranquillo, tranquillo Entra, entra, corri Bandone il primo Ma l'hai che volto in merda Se non avessi con lo scudo di merda Però il black per per i nabbi Cazzo, pura Che bugia Che bugia Non è proprio così che funziona Che dire Se lo savo io, Kevin Se lo savo io cosa succedeva Spadavano in testa attraverso lo scudo Con quanti colpi? Davo Kevin, pari in fretta Uno, uno Ovvio E' uno qua fuori Che schifo Che schifo Minchia, le granate non servono un cazzo Sto gioco Madonna Chi è su wifi 0-1 qua? Boom Ragazzi, chiudete sto gruppo Bravo Dodger Mi ha dato fuoco a uno Tu Clint muore sempre Un nabbo Cioè, sempre Diego lì su Il drone è dentro Ti è sempre lì, Capcom Oh, a destra E che cazzo, però Ragazzi, vedete un attimo la telecamera che ho messo fuori Cioè, da giù Giù da basso Giù da basso Io non capisco perché Dodger si si mette a ridere quando dice giù da basso Cazzo c'è da ridere? Perché è una roba stranissima Cioè, come di sud alto Cioè È vero questo Sud alto Oh, dracone Sì, lo so Che gioco di merda Dai, adux che non c'entra un cazzo Guarda Madonna Oh, io Che Uno, interrogo uno, raga Ragun, sotto Sotto di te Ti prego, fallo Ti prego, fallo No, piuttosto solo sono fatto ammazzare Non ci credo Non ci credo Madonna È quello che avevi fatto io Incredibile Incredibile Piuttosto sono ammazzato il testimone L'avresti fatto anche te Io ci stavo pensando Da quando è uscito Il DLC Pazzesco Il DLC Qui fuori, dragon Qui fuori Ma vai a fare in culo Dai, basta, dai Non so più giocare a sto gioco, dai 99 di danno dove? Che l'ho preso quattro volte Ancora vivo Da un metro poi Pazzesco Solo incazzare sto gioco Figa Tranquillo Tranquillo Cero io Tranquillo Grande No, non in due, raga Eh, vaffanculo Ce n'è un altro Faccio il giro Faccio il giro Faccio il giro No, sicuro Franck State in due State in due Che meglio Vabbè Ok No, fa bene Vabbè, se si fa il giro Però effettivamente Qui non può più uscire dalla zona Tanto Ma cazzo, fai qualcosa Lo sapevo Io, lo sapevo Dai, vabbè Dai, dai Lo so Però per fare quel giro Ci metti troppo Ma io gli ho sparato Ti giuro che gli ho sparato Ma non si è fatto niente Ma è normale Anche prima quello Gli ho sparato Non si è fatto un cazzo Ma se il rook Andrà a correre veramente Aspetta che fai il giro Tranquillo Tengo io a queste porte di qua Kevin Dai Scavalca Bastardo Sono negro Quindi butto Il fuoco Tanto Ce ne sta sempre uno, cazzo Ah, si Infatti Quel frost Sta sempre lì dietro Però non si è fatto un cazzo Stavolta Non so perché Per ora Raga, per ora è solo lui Infatti Butta lì Butta lì Aspetta Se voi vengono a lanciare Un paio di granate Aspetta Buono su dardo Su dardo sfissiante Mi sa che l'ho ferito Di brutto No, aspetta 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 Oiti Oiti Vai Frank Vai Ok Preso Io vi dico se vi fanno il giro Aia Chi c'è? Chi c'è? Clint No, no, no Era quello di sotto Chi mi ha sparato Ok, Luke sta uscendo Luke è uscito Luke è uscito Luke è uscito la torre Luke è sotto È sotto la torre Sono in due sotto Tutto sono Quello che spotta È Luke Dragon A chi spari È una granata Ce ne sono due Vai Alla c'è la granata Come è possibile Che non muoia Ok, uno è morto Non può fare il giro Finché Ve lo dico io E l'altro è morto Vai Eroke 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 Ah, sono entrate Eccolo Oh, succhiano Merda Bello Questo lo dite Che è stata Più bella Dell'altra Ma insomma Eeeh Olè E facciamo un'altra Dite Ditegli se ne vogliono Quanto sono contento Quanto bella l'amiche Che giro della squadra Però mi va bene Che la vinciamo Troppo bella l'amiche Della Brava Ragazzi Vado io di là Così Seguribiamo un pochino Le squadre Diti Lo volete a Frank Per cambiare Oh mio dio Mi ha scritto una figa mondiale Mi ha scritto Come faccio a concentrarmi Adesso per Sottana Eva Voglio vederla Voglio vederla Voglio vederla Io mi fido solamente Dei miei occhi Lo so Lo so Raga Raga Mi posso mettere Io di là Raga Raga Gli facciamo No Coglione Sei un idiota Frank Adesso non può Oh mio dio Come si No No Dai Come si Grazie Non ci Credo Non ci Credo Ho buttato fuori Tutti No Frank Madonna Raga Scusate Comunque io ve lo dico È tutta colpa di Frank Cazzo Frank Hai fatto una cosa Alla baccata Non lo so È tutta colpa di Arce 2000 È vero È tutta colpa di Arce 2000 Cioè non c'è molta Illuminazione Quindi Dovete pensare Che Io consiglio Da di Preista Di girare armati Perché Cioè Perché Vedete Non Non Ci possono essere Delle situazioni Particolari Che Non Imprevedibili Cioè È un documentario Ma andiamo Qua si vogliono menare E non è uno scherzo Siamo in tre qui Però Se sono in dieci Non lo so Io sono anche armato Mosega Pronti ragazzoli Esseremo Vediamo un po' come va Maia Franco Raga io cambierei quasi quasi il mio gamertag Spendere altri dieci euro in franco franco Cioè madonna Invece mi chiamerei fanalino Ti aspettate che io non lo prendo ti ormai te Lo prendo lo stesso Vito Eh lo so Prendilo prendilo Io prendo sto sostia qua No che pirla Volevo mettergli l'hacog 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 Questa è fatta in tempo forse Dodgers sei un bastardo Io stavo per riprendere le slegge All'ultimo secondo Non è possibile Tranquillo Confuse Ti fai tutta la squadra animica e via Dai carica Madonna Quanto è figo congiungere a fare x Quando sta su il caricamento Madonna Nervoso Raga Io vorrei 2.000 like Dai Sì sì Ma lo facciamo per voi Lo faccio per voi Signori L'hanno pulso La risposta più bella è quella di Gringram Questa frase qua che è Ma gli te l'ha chiesto Sì ma Guarda che schifo C'ho cavera che camper Guarda che lì è aperto Ma perché sto gioco fa schifo? Boh Perché si chiama Rainbow Six Ecco Ostia oh Si ege Non è possibile Volevi Ho meno individuato raga Samaria dentro Che viene se ti vuoi cambiare Noi fai a n che ha innazzi Per non fare stazzi Cazzo ma c'è ancora la mina del Capkan Come è possibile Non c'è più Non c'è più Non c'è più dente Oh abbiamo capito Io ti apro di qua Tu te ne vai Ahia Vedi che alla fine c'era Ah non ci credo Madonna mia Kevin Raga Dracomini Entra di poco Vedi Pulse Vedi la potenza dei Pulse Arriva da quel corridoio Arriva da quel corridoio Glint Quello dritto davanti a te E ce n'è uno Nella tua sinistra Arrivando Pulse Eccolo 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 Bella 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 Ma dai Ma che cazzo Non è morto Ma ce n'eran due Però Ce ne sono due Ma spara con la palestra Eh ma non sapevo che era lì Cioè Vorrei che ti riferire fuori la palestra Ma Frank mi ammazzano Un altro Un altro Rai che stia ammazzando a sole Dietro 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 Eccolo Sempre lì Sempre lì Bravo Glint Bella Glint Bella Glint Sto mirino qua però è troppo bello Raga Io ve lo dico Ci stava il t-bag dai Ma perché non mettono i mirini dei russi Anche sulle altre armi Sapete che è figata avere una scelta di 8 mirini Guarda me Guarda me Guarda me Che cazzo stavate facendo È talmente scuro di sé Frank Che ha messo Ma sei normale Scusa 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 Draco Cosa Ha messo la mitraglietta Anziché lo spasso Kevin Anziché lo spasso Ha messo la mitraglietta Io ho messo tetti Kevin riesci ad entrare o Sì Ah che mi sta Sì Kevin ma sei nella stanza del server No il culo è nella stanza del server Magari l'impresa È andata a mettere a posto i cavi Oppure ha chiesto i collaboratori di farlo Quale dei due Kevin? Mi astengo I collaboratori per favore Non ti riesci a mancattivare No ragazzi Cazzo però ragazzi zitti Di Frank mi mancava un po' Sì infatti Ragazzi zitti Sono di nuovo lì Sono mongoli Sto facendo parkour con il drone È un parkour sempre meglio di fatto Sempre meglio fatto Di quello di Assassin's Creed Kevin I collaboratori per favore Mi segnalano i nemici Si sparano da soli Madonna Ma perché li ha chiamati operatori E non collaboratori? Che cazzo fa questo? È bella È mongolo È Kevin secondo te perché? Dal bel drone Dodgers Non lo so Si sono chiusi dentro Oh Puttalo via Dai Dai Stai qua Cazzo tutto il round Cercare di prendermi il dolore Stai cazzo Non me l'hai anche preso Kevin dove dove Kevin spacca qua Ma che cazzo hai fatto? Dai salta Bravissimo Che è venale Se non si possono più metterla Merda Ma vaffanculo Porco di 10 Ah Ma che muore dai Io coglioni Oh Dodgers attento Vado al tizio qua Eh 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 No No Non l'ho vista Dodgers registra questo elemento Ho fatto la clip Ci ha fatto Ci ha fatto Ci ha fatto Ci ha fatto La granata Granata per me Dai tranquill Kevin Non è stato raccato Noia Come hai detto Non ho spaccato tutto Non ho uscito dalla stanza Che è tutto spaccato E tranquillo che viene morto Cazzo Non è morto C'è un cascato A quel mudo Quello esatto No 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 Dalla porta Dalla porta Che schifo Cazzo Spara a fare La gente Che se non muore Dove No Non è morto Ma Che gioco Mi piuva Di provare a scendere Di provare a scendere Donna Mi raga Mi si deve proprio scendere Di corsa Eh Addio Ma regà Avete visto Hanno black Sì Ciao Black Sul buco Nella parete Hai sbagliato Hanno preso Anche il tachanka C'è uno Sopra E stava Tachanka Entra 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 Eh Sì Aveva fatto Uno sta Dove sta Tachanka Spara No Che fiu di puttare Non ci credo Eh io ve l'ho detto Ma non ascoltate Eh ho capito Kevin me lo dicevi Stavo direttamente fuori Piuttosto di far Sta figura di merda Io te l'ho detto Tu non ascolti Eh Kevin Non hai ragione Stavolta Sì 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 Stavolta 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 Io dovrei rifare La roba Ce n'è uno lì Ok Che uscita Frost è uscita Frost è uscita Sta sulle scale Anzi no 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 Dragon 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 Cosa Dovete stassi Dove sta il mirino rosso Dove sta il mirino rosso C'è Cazzo di frase Dove sta il mirino rosso E io li sto scontando Come la bestia Stati animando Stati animando Dragon Tidal è fatta è fatta è fatta è fatta è fatta morite merda dentro cazzo ragazzi che mi è entrato lì e che mi devi spiegarti meglio ma come va preso da raga non ho neanche visto ragazzi andiamo sopra secondo piano andiamo lì con i minuti andiamo lì con i minuti ragazzi sopra secondo piano in culo a chi non è per forza tutti le stesse chile anche se qualcuno si sveglia un po più dell'altro non è impossibile come idea 4 4 quattro vabbè che guarda le telecamere anziché giocare che cazzo prendiamo contro di ritardati non so se è chiaro no no il problema è chiato come concetto collaboratori per favore barricino a saltare subito e via merda merda via 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 vai andiamo a prendere le strade cazzo o c'è un altro glint porca troia da che salvato dove sta lì dove sta sento tumori vicino a me sta vicino a te raga io sono fuori nelle strade io ragazzo io su porca troia lo sapevo dove o dove è fuori qua oh raga oh raga siamo camperati ok si sento tumori deve essere accanto a me eccolo eccolo bravo glint io ti giuro che non l'ho vista che mi è passata davanti l'ho soltanto sentita bravo glint così bisogna giocare cazzo questa è magia signori ah comunque dragon ti vorrei dire una cosa hai dei fan dei fan di youtube un pochettino particolare è un pochettino locorroiche diciamo ecco anna il pubblico ma si è perché sono emozionati scusa c'è capisci c'è dinanzi al suo uomo frank di te franco 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 alzo franco ci sono campionando e poi franco ne riparliamo con il contatto tra una figa ti dice guarda ff ma la stessa dopo mi fai vedere io spacco tutto però intanto non ci credo c'era uno lì non puoi non morire continua fuoco di soppressione hai capito ma non muoiono mai niente vedi schizzare sangue ma non muoiono mai 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 mi fa entrare c'è un gioco veramente fuori vuoi vedere se c'è uno dietro là veramente vediamo un po' ah non ci credo c'è uno là dietro no pulse doggers attento c'è pulso sulle scale mezza vita ah io sono poi eh coglione che sei sei un coglione ma però lo faccio te lo devo dire eccolo lì il verme sei un coglione hai ucciso pulso in quel martello spara spara verme muori dai cazzo il fuoco non può non fare nulla è lì dietro altissimo ma cazzo lì dietro è e gli spara e spara e gli era un'altra non ce l'ho più non ce l'ho più non ce la granata dai la granata deve funzionare non ci credo se non mi è andata a sinistra eccolo bravo frank dracoon madonna come te l'ho chiamato mamma mia frank ti passo il controller vieni a casa mia vai vai mamma mia ragazzi mi giuro gliel'ho chiamata se è girato era lì dai apri uai una carneficina qui a terra dracoon uè quando non muoiono non è morto continuo a sparare continuo a sparare non ci credo continuo a sparare che è il mitraglione ma non avevo più colpi del mitraglione ne avevo venti ma veramente ma hai fatto una cosa peggio di questo io non ci credo non ci credo è possibile non trovo mai uno ad esempio che ha dieci di vita per esempio sembro tutti full vita stanno con quelli che becco io tutti ciao frank madonna soger stiamo perdendo ritardato sto diretto doger stiamo perdendo è come se gli diamo il contentino a loro come ne frega un cazzo oh se li spaccate se li spaccate magari clint metti bandit cazzo ridi doger stiamo perdendo 4-3 ma basta eh vabbè ragazzi il supporto di trane il supporto di trane dai ma sta a stare con il ritardato dai anche dove abita di casa sono qui merda si sta tutta che vedevo la testa si sta tutta che vedevo la testa si sta tutta che vedevo la testa ti ho detto che vedevo la testa ti mettevi in mezzo cazzo era thermite dodgers si 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 ti è mai ragazzi zitti oh ragazzi zitti ragazzi andavano qua ragazzi pure cazzo ragazzi pure touch qui oh c'è stanno aperto l'attento volevi merda volevi guarda da oggetto non fare il coglione volevi merda volevi buttala vai 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 già con attenzione che c'era c'era il ritardo no frank madonna mamma mia oddio bravo che cazzo era lì stavo brigando io oh mio dio guarda che guarda lo stazzi guarda lo stazzi facciamo dire un appartamento a zio ragazzi no 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 due volte come prima ce fregano che mi hai ragione che mi hai ragione non mi prego non vai va va bene facciamo appartamento a zio secondo me però che mi hai ragione madonna non ho piaciuto però c'è se prova che cazzo a fare non sai che è normale ragazzi io rientro e per chiudo bravo dove stanno dove è stanno fuori ho messo una telecamera fuori raga è là eh l'ultavacca non ci credo io Ash la odio veramente è troppo forte no Gers sta attento ce n'è un altro no insomma questo può essere mia tossina è troppo forte Ash dai attenzione a Franco ci prova ciao ciao bello ciao ciao un saluto ciao un saluto da Franco prengo te non sei normale ho sentito io non ci credo io ho attivato la nitrocell eccola qua guarda esce ancora fuori che campra esce eccola sì sì eccola lì eccola l'ho vista no giusto sei fuori sei un coglione dietro al camion sei proprio un coglione io ti assicuro non faccio un coglione non era più dietro il camion però ti rendi conto che Ash sta ammazzando tutti da fuori tanto c'è stiazzi che è lì guarda sta sopra il camion che schifo madonna mia ah ragazzi aspettatelo qua dai ok vieni attento attento Kevin eccolo vai Kevin stanzi sì Franco ciao 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 questo è il lavoro di squadra e tu hai ragione no Frank vittoria sofferta tenevo paura che me la rubava Kevin ti dico la verità ragazzi io te l'ho distratto sennò col cazzo che la facevi ma chi è quello lì che tiene la mano dietro la schiena io no cioè raga questi ne hanno perso tre su tre questi ne soffrono psicologicamente sì sì molto psicologicamente dai ragazzi devo staccare anche io sì io non ce la faccio più ci la faccio io vado su ah sì è tipo una roba con ente che ha detto Frank ma che cazzo era aspetta lo metti integra del video eh guarda andare end no aspetta sì sicuro guarda questi ne soffrono psicologicamente cosa? cazzo allora che avevo detto mi non ricordo ora che ti faccia il tipo ah sì è vero il smugza per la mendo sì è il smugza per la mendo ora che ti faccia il tipo è il smugza per la mendo